amici di on the meters bentornati da mattia e mattia ciao a tutti ciao a tutte e buona primavera e buona primavera ragazzi ma quanto è volato sto inverno alla fine ce lo siamo lasciati alle spalle forse perché è stato l'inverno più caldo della storia la primavera è arrivata prima però siamo finalmente arrivati al momento in cui rimettiamo i piumini nell'armadio tiriamo fuori le giacchette di pelle le camicie e le cose fresche se non vi siete ancora depilate fatelo andate a farvi una lampada perché è il momento è il momento di farlo il profumo la primavera lo senti lo senti lo senti nell'aria i pollini le allergie gli occhi rossi il naso che cola bellissimo forse non tutti sanno che l'inizio della primavera coincide commercialmente parlando con la giornata internazionale del profumo bravissimo bravissimo il 21 marzo si celebra è stata lanciata dall'accademia del profumo di cosmetica italia la giornata internazionale del profumo e il 21 di marzo ci sono state un sacco di celebrazioni in giro per milano l'italia il mondo intero e noi potevamo non chiederci tra l'altro è facile perché abbiamo lo stesso nome caro mattia ma quanto ne sai di profumi zero non ne so niente a parte i prezzi di quelli che compro ma l'ennesima cosa che abbiamo in comune oltre il nome ma per fortuna abbiamo un caro amico che invece ne sa anche stasera che hai portato matti signore e signori marco rendine ciao a tutti ciao a tutti allora innanzitutto grazie per avermi invitato ma grazie a te ma che sorpresa ma guarda passavo di qua e mi hanno rapito perché mi hanno detto ho bisogno di qualcuno che mi parli di profumi e mi hanno rapito mi hanno portato direttamente qua fantastico grazie matti per questo ennesimo regalo che mi hai fatto allora questo è l'ennesimo amico di successo che abbiamo che mi porto dietro dalle scuole elementari perché noi eravamo compagni dalle suore in una parallela di via padova ancora l'infanzia ma oggi marco non è qui per questo per essere mio compagno di suore è qui perché è un creator è un creator e si è creato una nicchia una community legata proprio al mondo dei profumi qua ti cedo parola esatto proprio così nel senso che io sono un appassionato di profumi non sono assolutamente un esperto ma ho questa passione che più che una passione è un fascino riguardo al mondo della profumeria che ho da tantissimo tempo da quando ero ragazzino mia madre grande appassionata di profumi io andavo a rubarle qualche profumo andavo indossarlo e mi piaceva tantissimo poi piano piano è diventata sempre di più una passione ho scoperto cose nuove ho scoperto la nicchia poi ne parliamo ed è diventata una passione fino a che ho deciso di aprire un canale aprire un canale perché dovevo farlo perché io essendo un uomo spesso tra amici non si sa mai di cosa parlare se non di calcio di quanto ha fatto l'intero nel mio caso anche di qualcos'altro che però non lo diciamo se no ci insurano ma innanzitutto come si chiama il tuo canale youtube che poi è il tuo nome d'arte allora il mio canale youtube si chiama a naso duro ogni riferimento è puramente casuale ma a muso duro in realtà non farà intendere perfettamente ragione perfettamente ragione tu a muso duro affronti comunque la tematica del del profumo del profumo e noi qua ci siamo preparati matti una scaletta di quelli dati numeri indotti quelli che piacciono a noi economici tra l'altro piccola premessa voi non lo potete sentire da casa ma marco ha un profumo buonissimo esatto che magari poi ci sveli dopo lo dico poi poi ce lo dici senza senza fare promo matti partiamo snocciolando i numeri esatto numeri che marco sicuramente conosce ma che potrà che potrà confermare noi partiamo sempre da quella che è un po la data driven strategy on the matter esatto esatto parliamo di un mercato miliardario perché in tutto il mondo il mercato dei profumi si aggira intorno ai 51 miliardi di dollari con l'italia che si posiziona come quinto mercato mondiale detenendo circa il 5 per cento del fatturato globale quindi non siamo messi male non sei l'unico appassionato no non sono da solo infatti vedi la tua community è già bella grande e parliamo ovviamente di un mercato in crescita rispetto al 2023 che insieme al mercato della cosmesi in generale è tornato a crescere dopo la pandemia perché tutti a casa chi oltre al pane non si è fatto le maschere i trattamenti di bellezza si è appassionato di profumi quindi insomma sarà anche una passione di nicchia però è un mercato multimiliardario assolutamente sì calcolate che esatto il mercato di profumi era in continua crescita fino al momento del lockdown alla pandemia dopodiché c'è stata una leggera contrazione una leggera fase di stallo vabbè anche perché chi si profumava in casa esatto anche perché non c'era bisogno però poi cosa è successo che le persone stando in casa hanno iniziato a informarsi su quella che è la cura per noi stessi quindi la beauty care piuttosto che la cura della pelle la cura per i capelli e il profumo e quindi di conseguenza tanti tante persone si sono appassionate al mondo hanno iniziato a ricercare perché è una ricerca poco frequente diciamo pure che la gente iniziava a prepararsi per uscire al meglio di casa più fresco di me bellissima questa cosa interessante questo trend quando si diceva ne usciremo migliori tutti pensavano eticamente in realtà esteticamente no perché la criminalità è assolutamente peggiorata e anche un sacco di altre cose però siamo tutti un po più belli ma che poi ci sono che hanno i criminali oggi e poi ci sono un sacco di criminali profumati bella sì giusto esatto senti ti faccio qualche domanda diretta però lo sai noi dialoghiamo parliamo cosa com'è composto un profumo perché anche la letteratura se vogliamo la cinematografia ha affrontato la tematica del profumo mi viene in mente un film che è profumo storia di un assassino che ovviamente tu conosci esatto com'è composto il profumo il profumo partiamo dal presupposto che parte dall'antichità già nell'eregizia si usavano miscele unguenti particolari per profumarsi anche perché all'epoca non erano proprio così profumati quindi veniva usato anche per mascherare i cattivi odori corporei anche adesso però e questo esatto anche adesso purtroppo tante persone ancora adesso confondono il profumarsi con l'igiene personale ecco prima ci si fa la doccia e poi eventualmente ci si spruzza il profumo però comunque ecco già dall'antichità c'era il modo per profumarsi il profumo che cos'è sostanzialmente è un composto da materie odorose così vengono chiamate di origine naturale o no quindi di origine naturale o sintetica origine naturale quindi estratti dai fiori piuttosto che da cortecce arbusti arberi piuttosto che di origine animale poi c'è tutto il tema che viene tutelato da un ente che si chiama ifra che va appunto a tutelare l'origine di queste materie prime assolutamente una sorta di certificazione sull'origine della componente va tutelato soprattutto il discorso di sfruttamento violenza sugli animali chiaro questa è una cosa molto è una cosa fondamentale e ci si sta lavorando tantissimo poi faremo degli esempi e quindi di conseguenza così nasce il profumo e sostanzialmente è composto da una piramide infatti se voi scrivete un qualsiasi nome di profumo trovate ci sono diversi siti web che raccontano i profumi trovate una sorta di piramide olfattiva composta da note di testa note di cuore note di base note di fondo la piramide olfattiva chiaramente è divisa così poi le note sono questi accordi che vengono creati dai nasi profumieri che si vanno a mescolare creando un aroma un odore un profumo chiaramente le note di testa sono quelle che vanno via prima che sentiamo subito al nostro naso che possono essere note maggiormente volatili quindi agrumi piuttosto che note florali leggere note agrumate note speridate un po' frizzantine è il primo impatto col profumo il primo impatto dura poco alla fine ok dura i primi minuti la prima ora magari in alcuni casi poi si passa le note di cuore quindi troviamo magari materie prime un pochino più strutturate un po più di impalcatura se vogliamo così che il percorso che fa il profumo sulla nostra pelle per la maggior parte del tempo poi le note di fondo dopo tante ore quello che poi lascia nel dry down così viene chiamato sulla pelle certo ma marco ma scusa è vero che il profumo cambia in base al ph della pelle di chi lo indossa assolutamente sì il profumo chiaramente io consiglio sempre nei miei video di vaporizzarlo prima sul cartoncino sulla mouillette quindi quando andate in profumeria avete questi cartoncini dove va vaporizzato il profumo però poi se il profumo vi piace ecco fate una breve scrematura di quelli che sono i tre quattro profumi che potrebbero piacervi e poi lo vaporizzate su pelle andate fuori all'aria aperta senza farvi contaminare da altri odori e sentite come vuole del profumo sulla pelle se vi piace lo comprate bene innanzitutto segnatevi queste cose che sono istruzioni poche e semplice ma cruciali quantomeno per avere un acquisto consapevole perché con quello che costa cioè e poi magari ti sta male e qua apriamo apriamo la prima grande parentesi approfondimento perché il mondo dei profumi 50 miliardi ma ci sono profumi da 12 euro profumi da 500 euro senza certo certo poi figurati nei profumi personalizzati adesso non lo so ma esatto queste componenti queste differenziazioni economiche poi sono giustificate da non so la rarità della componente del profumo piuttosto che o è solo brand insomma allora sicuramente c'è una componente importante di quello che è il marketing è quello che è il brand è normale che se ci sono dei brand importanti si fanno pagare di più ma questo non solo nel mondo dei profumi un po in tutto il mondo cioè in qualsiasi oggettistica o tutti i prodotti di consumo dopodiché c'è un discorso legato alla rarità la reperibilità delle materie prime e anche la il come vengono estratte determinate materie prime certo di conseguenza cioè il prezzo si alza notevolmente per esempio lo zafferano è una materia prima che costa tantissimo al chilo l'ud esatto l'ud alcuni tipi di ud superano i 50 mila euro al chilo cos'è un ud l'ud sostanzialmente te lo dico proprio in soldoni è questa sorta di muffa che si crea c'è di origine animale c'è di origine vegetale si crea solo le cortecce degli alberi e ha questo odore molto forte spesso utilizzato nella profumeria araba che ha delle sfaccettature un po fecali detta così è brutta attenzione attenzione profumo di ha delle sfaccettature fecali però se miscelate bene insieme a agrumi piuttosto che note un po più floreali note più piacevoli all'olfatto assume veramente se poi chi lo indossa è anche un po uno stronzo come persona sta da dire no scusa non volevo assolutamente abbattere quello che hai detto io lo indosso no però cioè questo per esempio è una cosa che non saresti mai aspettato di associare la parola fecale alla parola profumo anche le ribe posso pensa pensa che ritornando al discorso della reperibilità delle materie prime c'è una materia prima che si chiama ambra grigia e tu ti immagini questa ambra bellissima profumata in realtà dei sentori leggermente salati un po il gosi e l'ambra grigia viene presa da una viene ingerita direttamente dai capodogli ma dopo chiaramente il via è stata vietata chiaramente la caccia alle balene e adesso non viene più reperita tramite lo sfruttamento animale ma questa ambra grigia viene espulsa dai capodogli e galleggia per anni e anni sulla superficie acquatica viene ripulita dalle onde del mare a contatto col sole diretto e poi viene 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 estratta e ha questo odore stranissimo molto interessante molto sensuale spesso nei profumi da donna viene utilizzato viene utilizzata parecchia nei profumi femminili ma è comune è un sì sì è molto comune in tanti profumi viene utilizzata quando è vera ambra grigia costicchia capito ma ti sentito ambra grigia come romantico come profumato potrebbe essere quello il nome del profumo cioè ambra grigia è già il nome nella composizione tu compri più volentieri un profumo che ha l'ambra grigia piuttosto che la cacca dei capodogli posizione è più uno e anche qui branding o the digestive in francese comunque secondo me costa di più il profumo se lo dici in francese ho una domanda forse scontata che riguarda un'esperienza personale allora a me piace moltissimo suvage elixir di dior che costa un botto c'è un mio amico in palestra che lo usa ciao andre e ogni tanto me lo me lo faccio prestare l'altro giorno lo cercavo per scoprire il prezzo ho visto il prezzo se c'era qualche sconto e dopo dieci minuti l'algoritmo mi ha premiato inondandomi di pubblicità di siti che vendono profumi che si ispirano a e che costano un quarto un quinto vale la pena sono come si dice truffe falsi d'autore che non si chiamano così è si chiamano con dei numeri però ricordano quella quel profumo sono diciamo degli equivalenti sono degli equivalenti che io nei miei social non consiglio mai di acquistare nel senso che io preferisco l'originale ma su tutto è a prescindere su tutto preferisco sempre la prima fonte sauvage elixir sicuramente un buon profumo ma costa e ha dei costi che si avvicina alla nicchia perché poi c'è da fare una distinzione tra profumeria tradizionale facciamola questa distinzione che c'è questa distinzione appunto tra profumeria tradizionale designer e profumeria di nicchia o profumeria artistica sostanzialmente profumi designer dal nome sono profumi che vengono prodotti da questi brand che oltre alla profumeria si occupano di vestiti piuttosto che borse piuttosto che altra oggettistica i profumi di nicchia sono aziende che si occupano solamente di produrre profumi certo ma già a livello di marketing e di vendita c'è proprio un diverso approccio la profumeria commerciale o tradizionale i profumi commerciali tradizionali potete trovare per esempio da sephora ad aglas mass market proprio esatto quindi entrate e già vedete una distinzione perché se tu entri da una profumeria in un centro commerciale trovi già la distinzione per lui per lei per lui di colore blu per lei di colore rosa ok nella profumeria di nicchia questo non avviene tu entri e vedi la distinzione la suddivisione per brand provi quello che vuoi e poi se ti piace qualcosa lo acquisti quindi non c'è assolutamente genere e questa è una gran cosa certo detto da uno che usava i profumi di mia madre quando era ragazzino ma apriamo un attimo anche l'ennesima parentesi di oggi perché oggettivamente si possono aprire un'infinità di parentesi su questo tema che voglio legare in qualche modo all'inclusività perché come dici tu il profumo si sposa con quello che può essere il ph quindi un aspetto molto personale del soggetto al gusto ovviamente che è la cosa più soggettiva in assoluto in qualche modo al di là del marketing di come viene comunicato effettivamente il profumo non ha genere cioè è diciamo un anello di congiunzione assolutamente trasversale ma anche perché banalmente io ricevo allora adesso c'è un po il trend che è quello di profumi potenti profumi che si facciano sentire profumi che piacciono alle donne io parlo per me perché la mia maggior parte dei delle persone che mi seguono sono sono uomini quindi cercano questi profumi che piacciono alle donne ma in realtà se un profumo piace una donna perché una donna non deve indossarlo quindi quindi assolutamente per me non c'è genere tutti i profumi sono indossabili tranquillamente io profumi anche designer venduti come profumi femminili io li indosso tranquillamente certo assolutamente bella questa cosa che il profumo unisce molto molto secondo me è anche c'è stata una fiera se non sbaglio a milano da poche settimane vero su una fiera molto importante si chiama xans che è una fiera che viene fatta tutti gli anni a milano all'allianz mico in city life e questa fiera internazionale dove brand da tutto il mondo arrivano a milano sono quasi 500 per quello ti dico che il fenomeno della c'è il discorso profumi è veramente aumentato c'è un grande interesse da parte del pubblico e anche un pubblico un po più piccolo rispetto a prima c'è da considerare che la maggior parte del pubblico che ama i profumi sono persone di età medio alta che hanno un potere di acquisto importante certo certo alcuni profumi come abbiamo detto prima costano parecchio però io ho visto un avvicinamento incredibile l'ex ansa una fiera di quattro giorni tre giorni per gli adetti al settore profumerie distributori buyer influencer l'ultimo giorno al pubblico l'ultimo giorno era pieno e qua infatti mi viene una riflessione automatica cioè perché c'è stato questo avvicinamento questo aumento dell'interesse proprio secondo me grazie a persone come te no sì allora sì nel senso che proprio come dicevamo prima in pandemia tante persone sia nel mondo beauty ma anche non hanno iniziato a fare contenuti online quindi ai cosiddetti content creator influencer chiamiamoli come vogliamo di conseguenza tante persone hanno iniziato ad avvicinarsi e il pubblico medio di una persona che fa contenuti online sui dai 20 dai 15 in su poi chiaramente ai 15 anni in su poi chiaramente a chi interessano i profumi io io guardo le mie statistiche arrivano dai 18 ai 54 anni 55 anni più o meno ma infatti secondo me in questo caso poi grazie alla divulgazione tra virgolette l'età media si abbassa perché c'è un po' anche la ricerca culturale di un mondo completamente globalizzato di qualcosa di un po' di diverso che ti possa distinguere dalla massa no però l'interesse come dicevate voi secondo me è diventato maggiore tanto che ad esempio a milano una week che mancava è la beauty week che c'è da un paio di anni dove ci sono tac promozione dove ci sono anche degli approfondimenti culturali con delle sorte di nasi che guidano delle degustazioni sensoriali in cui danno dei consigli delle indicazioni e tutte le masterclass sono piene anche di ragazzi giovani che sono un po' alla ricerca di qualcosa di diverso per distinguersi per essere un po' più figo che è un po' quello che faccio io nel senso che comunque quando faccio i video cerco sempre di dare una dritta a un consiglio poi io esempio io non consiglio mai il blind buy l'acquisto al buio io dico sempre valo prima a sentire credimi sentire su pelle e poi eventualmente procedere all'acquisto anche perché soprattutto se si parla di nicchia tornando al discorso che una persona vuole identificarsi vuole essere diverso dagli altri se tu indossi magari un Sauvage per quanto sia un ottimo profumo io lo adoro e ce l'ho in collezione molto probabilmente l'ex ragazzo della ragazza che vuoi colpire o il padre o il fratello allo stesso e quindi conseguenza la nicchia va un po' a tappare quei buchi ecco e no mi interessava perché sicuramente lo sai i profumi più venduti i profumi più venduti da uomo ti dico sempre restando in tema profumeria tradizionale sicuramente Sauvage il numero che è nato nel 2015 ma con un'ispirazione chiara a un vecchio eau de Sauvage del 66 se non mi sbaglio che è un profumo storico un fougere fougere sono profumi a base lavanda con in accompagnamento agrumi e note un pochino più fresche profumi da ufficio profumi da uomo identificati maggiormente come da uomo poi c'è acqua di Gio poi c'è pacco Rabanne ce ne sono tante dai quelli li conosciamo anche sì sì Creed Creed Aventus bravissimo mi ha anticipato te lo stavo per dire Creed Aventus è un profumo è il profumo con cui mi sono avvicinato alla nicchia profumo stupendo storico best seller nonostante sia Costicchia 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 perché siamo sui tre capito trecento sui cento ml vabbè Costicchia però è un gran profumo non a caso è un best seller e adesso è poco identificato come nicchia è più vicino a quello che è come perché i numeri parlano ecco quando qualcosa diventa così di dominio pubblico diventa esce in automatico ma quindi sulla nicchia che cifre possiamo raggiungere se Creed qua non è di nicchia questa trecento euro guarda io ti dico c'è un profumo in ex c'è un marchio che si chiama spirit of dubai un marchio arabo che ha una collezione un pochino più economica un po' per tutti più accessibile e poi la collezione la seconda edizione che hanno fatto di profumi che arrivano a costare c'è un profumo con un estratto di rosa centifoglia che è la rosa di maggio quindi è una rosa molto piena succosa molto densa mille centoventi euro se non mi sbaglio cento ml cento ml cento settantacinque adesso non mi ricordo però sì l'abbè tanto comunque non me lo compro esatto l'hai provato non ce l'ho provato l'hai provato ma guarda io ho una collezione di neanche così tanti ci sono persone che hanno molti più profumi di me però a me piace documentarmi e soprattutto ricercare io giro tantissime profumerie in tutta Italia e vado proprio a sentire quello che mi manca ho una wishlist se ti faccio vedere il telefono immensa di profumi che vorrei acquistare però ne ho sulla centoventi più o meno sì vabbè che voglio dire se te ne metti uno al giorno sono un terzo dell'anno per fare un paragone con chi magari non è tu quanti ne hai di profumi a casa? io sono molto sincero profumi io penso di non aver mai acquistato un profumo cioè non ho memoria di me che acquisto un profumo per dirvi che è sempre stato qualcosa che mi hanno regalato esattamente qualcuno probabilmente ce l'ho lì da anni l'ho finito quello che mi è sempre mancato è l'abitudine di metterlo non so come dirti ma sai che io per assurdo io ho tantissimi profumi in collezione per assurdo uso poco i profumi che ho perché li uso nelle occasioni speciali se un profumo io lo acquisto è perché mi piace talmente tanto e quindi lo voglio usare per un'occasione che può essere un evento aziendale può essere una cena importante un appuntamento serale quindi diverse occasioni poi c'è il profumo sensuale il profumo da giorno il profumo d'ufficio così via però io spesso facendo questo su youtube quindi lavorando tanto con i social testo tutti i giorni testo campioncini i vari sample che ti danno in profumeria ti danno a seguito di un acquisto e quindi io testo tutti i giorni i profumi diversi bene pensi che questa cosa altererà il tuo senso dell'olfatto? ma guarda in realtà anche la cosa del caffè che ti mettono il caffè da annusare in realtà il caffè teoricamente loro dicono se tu annusi il chicco di caffè ti devia quindi dal profumo che tu hai memorizzato nel naso ti devia verso un altro odore in realtà basterebbe uscire all'aria aperta in un ambiente non contaminato da altri profumi il naso si pulisce poi puoi ritornare in profumeria sentire neanche entrai dentro entri e esci una decina di volte esatto la tua top 3 di profumi anche di nicchia così poi magari qualcuno se li va anche a cercare allora questa è una domandona nel senso che è difficile è difficilissimo però ti direi guarda i profumi che sto utilizzando tantissimo ti direi è Naxos di Xergev che è un brand italiano ed è un profumo tabacco miele questo tabacco imbevuto nel miele abbastanza dolce per l'autunno ma anche qualche sera d'estate quindi diciamo più che altro quello di cui secondo me una persona ha bisogno sotto il discorso profumi un profumo versatile da tutti i giorni e ti posso dire un Creed Aventus quindi un profumo bello piace sempre fresco non dà fastidio non è aggressivo un profumo da occasione quindi serale magari un po' più scuro come può essere un Naxos quindi lo puoi utilizzare in occasioni importanti un profumo estivo quindi magari con il cocco un po' tropicale con il tiare e i fiori bianchi che hanno queste sfaccettature un po' cremose piacevoli che ricordano un po' l'estate e un profumo da occasione e lì si va proprio sull'artistico Mortal Skin di Stefano Umberlocas che è un profumo con una nota di inchiostro ve lo lasciamo in descrizione bellissimo ultima mia domanda curiosità cosa ne pensi dell'acqua di Parma invece che è tra i miei preferiti è un grande brand a me piace molto io ho blu mediterraneo e quercia sono due profumi allora acqua di Parma è un brand che a me piace non ha tanto seguito secondo me come magari altri brand perché non gode di performance eccezionale quindi magari è un profumo che metti se ti aspetti le 15 ore di un mega mare che magari voi non lo conoscete ma sicuramente qualcuno lo conoscerà credetemi perché è uno dei best seller nella nicchia adesso purtroppo è quello il metro di paragone è profumi che durano 12-15 ore ma in realtà un profumo quando ti dura quelle 4-5 ore va più che bene il tempo di una serata il tempo di una cena va più che bene quindi acqua di Parma è un gran brand mi piace bene grande allora innanzitutto io ti ringrazio perché ci hai dato veramente degli spunti super interessanti ci hai portato in un mondo che era assolutamente sconosciuto totalmente almeno a noi totalmente e effettivamente hai usato anche degli accettivi delle terminologie che secondo me hanno stimolato l'interesse anche poi per chi ci ascolta il tuo canale l'abbiamo detto a naso duro quindi seguitelo assolutamente su tutti i social principalmente su youtube che è un po' casa tua youtube instagram su instagram sono marco.rendine che è il mio nome e li faccio video un po' più brevi che arrivano un po' di più al pubblico perché contenuti lunghi spesso magari fanno un po' più fatica ad arrivare adesso con l'arvento dei contenuti brevi arrivi subito corriamo tutti siamo di fretta comunque tutti i suoi riferimenti li trovate qua sotto come al solito marco grazie ancora grazie per questa lezione pazzesca io ringrazio voi e vi faccio i miei complimenti perché vi seguo ho visto tanti i vostri video e vi faccio i complimenti per come trattate anche oggi abbiamo fatto una puntata molto easy una chiacchierata però trattate anche argomenti delicati e seri e li trattate veramente a modo e in modo professionale quindi complimenti grazie davvero grazie ci vediamo domenica prossima ciao a tutti ragazzi ciao